ciao ragazzi salve a tutti volevo fare una breve unboxing di un pacco che mi è stato appena recapitato da amazon proprio in questo momento e con voi spacchetterò allora i prodotti sono pochi insomma ho preso qualcosa per il computer è un prodotto cosmetico poi un prossimo video fare una recensione per ogni singolo prodotto allora vediamo un po cosa c'è nel pacco allora il primo prodotto è un bellissimo mouse della zoteles t90 è bellissimo io questo ho visto alcune recensioni su youtube sono rimasto veramente bocca aperta perché è uno di quei mouse che come piacciono ammi vistosi belli grossi a led insomma un po tamarro bellissimo questo primo poi ho preso questo bellissimo tappetino quindi che accompagna il mouse molto molto bello vediamo cosa c'è allora questo qui è un olio di ricino questo è fantastico perché questo può essere usato sia per la barba che per i capelli ed è ovviamente un tocca sana poi farò una recensione molto più dettagliata di questo prodotto veramente ottimo prossimo eccolo qui allora questa è una rama da 2 gigabyte della kingston 800 mhz volevo un po aumentare insomma la rama sul mio computer che attualmente 6 gigabyte con questa arriverò a 8 giga ok questo è tutto quindi alla prossima vi ringrazio per aver visto il video se vi è piaciuto mi fa sempre piacere se mettete un pollice in su ciao ragazzi grazie 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 grazie